L'argomento UFO è sempre stato un argomento forte del CICAP, nel senso che loro da sempre negano sistematicamente che possa esistere sulla Terra un qualunque oggetto volante che sia di origine non terrestre. Secondo loro tutti gli avvistamenti, assolutamente tutti, quelli che sono stati registrati dagli anni 40 del secolo scorso fino ad oggi hanno tutti una spiegazione terrestre. O sono fenomeni atmosferici, tipo i fulmini globulari, o sono normali oggetti volanti scambiati per qualcosa di misterioso, o sono palloni sonda, o sono effetto dei gas delle paludi, o sono casi di allucinazione dei piloti, ma nulla, assolutamente nulla, di tutto ciò che è mai apparso nei nostri cieli deve essere considerato di origine extraterrestre. C'è sempre, secondo loro, una spiegazione razionale di tipo terrestre. Capite che con una posizione del genere diventa molto difficile fare fronte da una parte alla valanga sempre crescente di avvistamenti inspiegabili e dall'altra alla missione fatta proprio di recente dallo stesso governo americano di essere di fronte a fenomeni inspiegabili. Ma loro tengono duro. Lo sapete come funziona il debunker? Ne abbiamo già parlato nella puntata introduttiva. Loro prendono una posizione di principio e non la mollano più. Poi, in base a quella, cercano di adattare i fatti man mano che si presentano, in modo da farli combaciare con la loro posizione iniziale. Non si è mai visto un debunker cambiare la sua posizione su uno qualunque di questi argomenti controversi, indipendentemente dal tipo di prove che possono emergere nel corso del tempo. Così facendo, ovviamente, si ritrovano a dover negare persino delle verità storiche ormai accertate da tutti e sono disposti anche a mentire pur di negare queste verità. Un classico esempio ce lo ha regalato proprio Piero Angela, il fondatore e padre spirituale del CICAP, che durante una trasmissione di Superquark di qualche anno fa ha mentito platealmente pur di negare una verità storica ormai accertata. Nell'introduzione della puntata Angela ci ha parlato del progetto Blue Book, ovvero dell'indagine che i militari americani avevano messo in piedi negli anni 50 e 60 per cercare di spiegare la marea sempre crescente di avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Ascoltate la clip e fate bene attenzione alle parole che usa Piero Angela perché sono molto importanti. Parecchi anni fa fece in televisione un programma sul fenomeno degli UFO cercando di capire perché era così diffusa questa credenza. Come è noto l'aviazione americana fin dal 1947 aveva aperto un servizio per esaminare tutte le osservazioni fatte da privati sui dischi volanti e la ragione era per accertare se i sovietici non stessero per caso sperimentando qualche velivolo di nuovo tipo. E questa sezione rimase in funzione per molti anni senza che nessuna osservazione di dischi volanti venisse confermata. Senza che nessuna osservazione di dischi volanti venisse confermata. Bugia clamorosa. A parte che in quegli anni non li chiamavano ancora UFO ma li chiamavano proprio dischi volanti cioè flying saucers ma furono proprio i militari americani ad ammettere pubblicamente di non essere in grado di dare una spiegazione a tutti quei dischi volanti. Fu il generale Sanford ad andare in televisione mandato dal presidente Truman per spiegare che non sapevano cosa fossero. A raccontarci l'episodio è l'attrice Shirley MacLaine in questa intervista di Larry King. che si è così. Poi possiamo dire che le recenti sottotie non sono in modo connessi con nessuna segretà di qualsiasi dell'agente dell'Unione dell'Italia. Abbiamo ricevuto e analizzato tra 1 e 2,000 reporti. Abbiamo avuto una certa parte di questo volume di reporti che ci sono stati creativi di osservatori credibili di una cosa incredibile. Di fatto, nonostante il progetto Blue Book fosse riuscito in qualche modo a dare una spiegazione plausibile alla maggioranza dei fenomeni osservati, e dico plausibile, non dico certa, alla fine restavano comunque 700 casi di avvistamenti che non erano spiegabili in alcun modo in termini terrestri. Ovvero, non erano palloni sonda, non erano mezzi militari, non erano allucinazioni dei piloti, non erano fenomeni atmosferici di alcun tipo, erano qualcosa che gli stessi militari non riuscivano a spiegare. Nel 1969 il progetto Grage veniva terminato e pubblicato con il nome più attraente di Project Blue Book. Vi erano elencati oltre 12.000 casi di avvistamento, divisi per anno, dei quali la grande maggioranza veniva spiegata da fenomeni naturali, casi di allucinazione oppure da velivoli o strumenti volanti di origine terrestre. Restavano però circa 700 casi che nemmeno i militari erano riusciti a spiegare. Questo Piero Angela lo sa benissimo, però mente dicendoci che alla fine del progetto Blue Book non fu confermato nessun avvistamento di dischi volanti. Sentiamolo nuovamente il nostro divulgatore scientifico, mentre svolge il suo vero ruolo, che è quello di grande tranquillizzatore sociale. L'aviazione americana fin dal 1947 aveva aperto un servizio per esaminare tutte le osservazioni fatte da privati sui dischi volanti e questa sezione rimase in funzione per molti anni, senza che nessuna osservazione di dischi volanti venisse confermata. Nessuna, appunto, eccetto quei 700 casi che non trovavano una spiegazione terrestre. Guardate che 700 casi non sono pochi, non sono 7 casi isolati qua e là che non trovano una spiegazione. 700 sono una marea di avvistamenti inspiegati, vuol dire che c'è una costante, vuol dire che c'è un problema reale. Ma veniamo ai giorni nostri perché nel frattempo diverse cose sono cambiate. Innanzitutto, come sapete, di recente lo stesso Pentagono ha ammesso ufficialmente l'esistenza degli UFO. Gli ha solo cambiato nome, adesso li chiamano UAP, cioè fenomeni aerei non identificati, ma la sostanza non cambia, sono oggetti che volano nei cieli americani e non si sa cosa siano. Naturalmente il Pentagono non arriva a dichiarare apertamente che siano extraterrestri, ma è chiaro che se tu non sai darmi una spiegazione terrestre per questi oggetti, non è che ti restino molte scelte. Se sai che non sono russi o cinesi, e lo sai perché mai gli americani permetterebbero ai russi o ai cinesi di penetrare così impunemente il loro spazio aereo, e se sai che non sono americani, altrimenti sapresti che cosa sono, di alternative ne restano poche. O sono oggetti volanti del Madagascar, nota potenza spaziale, in grado di violare tranquillamente lo spazio aereo di chiunque, oppure non sono terrestri. Basterebbe questo semplice ragionamento per riconoscere che siamo molto probabilmente di fronte a macchine volanti di origine non terrestre. Ma il debunker no, figuriamoci se lui si arrende. Anzi, più la situazione si fa difficile, più lui si ostina a negare quello che è sempre più evidente per tutti. Intanto non abbiamo più i Piero Angela e i Paolo attivissimo a combattere in prima linea. Piero Angela, per ovvi motivi anagrafici, è attivissimo probabilmente perché ormai ha perso ogni credibilità e su certi argomenti preferisce non metterci più la faccia. Oggi il debunking si è rifatto il look e ci presenta dei volti freschi e nuovi. C'è Massimo Polidoro, il nuovo frontman dei debunker nazionali, che abbiamo già visto in azione sul caso Kennedy, fra l'altro, e poi c'è una new entry molto interessante che è Adrian Fartade. Fartade è un tipo molto curioso, una specie di bambinone adulto che si presenta con questa sua aria ingenua e simpaticona ai suoi followers. Una cosa che accomuna i due, Polidoro e Fartade, è che ambedue si presentano come divulgatori scientifici. Ricordate la tecnica del debunker Noi siamo la scienza? Ecco, per qualche motivo loro si autodefiniscono divulgatori scientifici e quindi noi subliminalmente siamo portati a credere a tutto quello che ci raccontano. Se una cosa me la dice un divulgatore scientifico sabrà bene di cosa parla, no? In realtà nessuno di loro è scienziato. Il titolo se lo sono inventati da soli. Pensate, Massimo Polidoro è laureato in psicologia, mentre Adrian Fartade è addirittura laureato in storia e filosofia. Che cosa centrano queste materie con la scienza? Perché la loro opinione scientifica deve essere necessariamente più valida, ad esempio della mia che ho fatto architettura? Non c'è motivo. La mia opinione dovrebbe valere esattamente come la loro, no? No. Perché loro si mettono a prioristicamente dalla parte della scienza e così molte persone, le più ingenue purtroppo, sono portate a credere che abbiano automaticamente ragione loro. Avete capito il trucco? Facile. Io sono la scienza e quindi vi racconto la verità, ma Zucco non è la scienza e quindi è ovvio che mente. Un'altra cosa che accomuna i nostri due eroi del debunking è che hanno scelto una strategia psicologica molto furba per trattare il problema degli UFO. Non fanno più come Piero Angela che avversava chiaramente l'idea di astronavi extraterrestri. No. Loro sono molto più astuti e melliflui. Loro ti dicono che vorrebbero tantissimo che esistessero gli alieni, che sarebbe bellissimo che esistessero, ma che però purtroppo non ci sono prove certe. guardate questo bel siparietto che vi ho montato. Di nuovo, io per primo vorrei tanto che ci fossero alieni, ma magari venissero fuori o se si scoprisse che davvero esistono gli extraterrestri, sarebbe una scoperta meravigliosa. Quanto sarebbe bello se ci fossero davvero, e anche un po' terrificante, oggetti extraterrestri di civiltà aliene che sono qui già da noi. La ricerca di vita nel cosmo va avanti da decenni. Tutti speriamo che un giorno possa portare a qualche risultato, a qualche scoperta clamorosa. Io sarei la persona più felice del mondo se questi fossero davvero alieni. Non mi parebbe vero. Avete capito? Non gli parebbe vero. Pensateci bene, perché hanno scelto questa strategia? Perché se uno avversa apertamente l'idea degli UFO già dall'inizio, allora le sue argomentazioni diventano più deboli. Uno dice, certo, tu li neghi a priori e quindi è chiaro che mi racconti così e cosà. Se invece loro ti dicono, non mi parebbe vero che ci fossero, tu allora dici, ma guarda poverino, non gli parebbe vero che ci fossero. Quindi evidentemente vuol dire che di prove proprio non ce ne sono. Se no lui ce lo direbbe, no? Visto che li desidera così tanto, avete capito? A cosa serve il giochino del non mi parebbe vero? È tutto fumo negli occhi, ragazzi. E infatti a dimostrazione della loro malafede, tanto non gli parebbe vero che esistessero gli UFO, che anche Fartade sceglie di mentire sul progetto Blue Book esattamente come aveva fatto Piero Angela. Ascoltate con attenzione. Che si chiama The Blue Book, in cui vengono raccolte tutte le testimonianze con lo scopo di archiviarle e trattarle in maniera ufficiale, seria. E continua fino a circa il 1969, quando il New York Times poi dopo racconta della chiusura di questa indagine è che alla fine Blue Book non ha trovato niente che non fosse spiegabile o attribuibile per forza ad alieni. Non ha trovato niente che non fosse spiegabile, ci dice Fartade, eccetto per i famosi 700 casi che lo stesso progetto Blue Book ammette di non saper spiegare in nessun modo in termini terrestri. Quindi perché menti, Fartade, se davvero tu desiderassi così tanto scoprire che esistono gli extraterrestri? Perché neghi spudoratamente tutti i casi di avvistamento che gli stessi militari non sono in grado di spiegare? Lo vedi che sei in malafede? La tua è ipocrisia, non sei sincero? Un altro che vorrebbe tanto che esistessero gli UFO ma poi nega l'evidenza è proprio Polidoro. In un passaggio del suo recente video, Polidoro ci parla di tutte le ricerche sugli UFO che sono state fatte nelle varie nazioni, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, eccetera. E alla fine ci dice che nessuna di queste ricerche ha mai ammesso l'esistenza di extraterrestri. E in conclusione Polidoro vi dice anche non fidatevi di me, andate e cercate. Guardate la clip. Tutti questi studi precisano anche che non c'è alcuna prova della presenza di intelligenze extraterrestri e non lo dico io, lo dicono i documenti. Ma non fidatevi di me, cercateli, andateveli a leggere. Cercateveli, andateveli a leggere. Ve la ricordate la tecnica numero 5 dei debunker? Mandare a vedere? Tanto lo sanno benissimo che nessuno andrà mai veramente a vedere e quindi loro sparano tranquilli tutte le balle che vogliono. Se noi proviamo invece ad andare a vedere, che cosa scopriamo? Scopriamo che esiste ad esempio un rapporto governativo francese, chiamato rapporto cometa, che conclude ufficialmente che, mancando delle valide spiegazioni terrestri, l'ipotesi extraterrestre non può più essere scartata e che, visti i fenomeni osservati, questi extraterrestri posseggono tecnologie molto superiori alle nostre. Anche l'Europa non è rimasta insensibile al problema degli UFO. Dopo il caso di Bentwaters in Inghilterra e soprattutto dopo l'ondata di avvistamenti del Belgio, il presidente francese Chirac fece istituire una commissione composta da personaggi del massimo livello per studiare a fondo il fenomeno. Il gruppo di lavoro era chiamato cometa ed era composto da scienziati come André Lebeau, il direttore delle CNES, l'equivalente francese della NASA, il generale Norline, ex comandante dell'aviazione francese, Jean-Claude Ribbe, noto scienziato ed ex direttore dell'osservatorio di Lione. Il titolo della ricerca era UFO e difesa. A cosa dobbiamo prepararci? Il gruppo analizzò circa 500 casi di avvistamento da ogni parte del mondo, concentrandosi soprattutto su quelli riportati da persone della massima credibilità, come i piloti civili o militari. Il gruppo cometa integrava le proprie indagini con rilevamenti e analisi scientifiche sul terreno dove erano avvenuti i presunti atterraggi degli UFO. Il rapporto cometa concludeva che questi oggetti volanti dimostrano la realtà del fenomeno UFO, hanno notevoli prestazioni di volo silenzioso e sembrano operati da esseri intelligenti. In assenza di altre spiegazioni del fenomeno, l'ipotesi extraterrestre non può più essere ignorata. Questi extraterrestri hanno un'intelligenza superiore e sono tecnologicamente più progrediti di noi, in quanto riescono ad ottenere risultati che noi ancora non sappiamo ottenere. Questo è un rapporto ufficiale del governo francese, eppure Polidoro nega che esista. Vi dice andate, cercate, ben sapendo che da soli ovviamente non troverete mai niente. Un'altra cosa su cui mente Polidoro è sull'episodio storico di Roswell. Il caso di Roswell fu quello che diede ufficialmente inizio all'ufologia moderna, nel senso che fu un caso estremamente clamoroso che occupò le prime pagine dei giornali per lunghe settimane. Inizialmente si era diffusa la notizia di un oggetto volante non identificato, un UFO appunto, caduto a Roswell nel New Mexico, ma poi lentamente la versione ufficiale cambiò e fu detto che si era trattato di un semplice pallone sonda. A sostegno di questa versione ufficiale, Polidoro ci racconta che quello che fu trovato a Roswell era semplicemente un po' di carta stagnola, nastro adesivo e piccole asticelle di legno. Dieci giorni dopo il ritrovamento nel campo Bresel ha deciso di parlare della faccenda allo sceriffo George Wilcox. Quest'ultimo, accompagnato da Bresel e da un uomo in abiti borghesi, probabilmente un militare, andò sul luogo del ritrovamento e raccolse ciò che rimaneva dell'UFO. Il materiale, pezzi di gomma, stagnola, carta piuttosto robusta, nastro adesivo e alcune asticelle, pesava meno di 3 kg e sul nastro adesivo erano stampati degli strani segni che qualcuno interpretò come un misterioso geroglifico. Ora, a parte che se avessero trovato soltanto un po' di carta stagnola e delle asticelle di legno, nessuno si sarebbe mai sognato di pensare a un UFO. Il caso Roswell non sarebbe mai esistito, invece fu un caso nazionale, fonte di polemiche infinite, al punto da diventare appunto il caso emblematico di tutta la questione UFO. Ma vediamo più da vicino come andò veramente la storia del ritrovamento dei resti dell'UFO di Roswell. Il primo ad arrivare sul posto fu Mac Brazel, il proprietario di un ranch che si trovava nelle vicinanze. Brazel raccolse alcuni dei rottami, ma non riuscendo a capire di cosa fossero fatti, decise di portarli allo sceriffo della città, George Wilcox. A sua volta Wilcox, stupito da questi materiali che non aveva mai visto prima, avvisò la vicina base militare. Il caso fu assegnato al maggiore Jesse Marcel, che era responsabile dell'intelligence della base. Marcel si recò sul luogo dell'incidente e raccolse altri rottami. Sulla via del ritorno si fermò a casa per mostrargli al figlio Jesse Junior. Un'altra persona che ha potuto vedere questi frammenti è Frankie Rowe, la figlia del capo dei pompieri della città che all'epoca aveva 11 anni. Avete capito? Altro che bastoncini di legno. Erano materiali che nessuno aveva mai visto prima, al punto che Jesse Marcel li portò addirittura a casa per fargli vedere al figlio. Secondo voi, Marcel porta a casa dei pezzetti di carta stagnola e sveglia i figli alle 3 del mattino per fargli vedere? Si prende 4 ceffoni se svegli la famiglia per fargli vedere della carta stagnola, no? Fra l'altro, subito dopo, Jesse Marcel venne convocato dai generali dell'esercito e fu obbligato a cambiare la versione dei fatti, raccontando appunto di aver trovato dei semplici resti di un pallone sonda. Il mattino dopo tutti i giornali riportavano la notizia che fu ripresa dalla radio e immediatamente diffusa in tutta America. Ma nell'arco di 24 ore sarebbe cambiato tutto. Jesse Marcel fu chiamato d'urgenza alla base militare di Fort Worth nel Texas, comandata dal generale Remy. Qui Remy convocò una conferenza stampa nella quale Jesse Marcel dovette presentare dei rottami di un pallone aerostatico, al posto di quelli da lui ritrovati nel deserto di Roswell. I giornali pubblicarono immediatamente la smentita e la notizia del disco volante fu ufficialmente dichiarata morta. Peccato che il figlio abbia sempre smentito che i rottami mostrati ufficialmente nelle foto fossero quelli che lui aveva visto a casa sua. Questo è il commento del figlio di Marcel sull'episodio. Fra l'altro, prima di morire, lo stesso Marcel ha confessato che quello che aveva trovato non erano affatto i resti di un pallone sonda, come era stato costretto a dichiarare inizialmente. Più avanti, Jesse Marcel avrebbe confessato al figlio che si era trattato effettivamente di un insabbiamento da parte dei militari. Marcel disse al figlio che gli avevano ordinato di posare con i resti del pallone aerostatico e di non dire più una sola parola su quello che aveva visto veramente Roswell. Jesse Marcel non raccontò mai pubblicamente quello che aveva visto. Prima di morire, però, rilasciò questa intervista. Avete sentito, era qualcosa che noi non conoscevamo, però Polidoro ci racconta che erano solo dei pezzetti di carta stagnola, di asticelle, di legno e di nastro adesivo. Avete capito com'è facile fare il debunker? Basta far finta di non sapere niente di tutte queste cose e tu ti presenti davanti al tuo pubblico con la tua faccina pulita e innocente a dire che a Roswell hanno trovato pezzetti di carta stagnola. Bene, la prima parte del servizio finisce qui. Nella seconda parte vedremo altri esempi di come i debunker mentano spuderatamente sulla faccenda degli UFO e soprattutto vedremo come se la sono cavata di fronte alla recente ammissione del Pentagono che i cieli americani vengono regolarmente invasi da oggetti volanti sconosciuti. Preparatevi perché le spiegazioni che vi danno i debunker sono veramente degne di loro. Eccoci alla seconda parte del video il CICAP e gli UFO e veniamo subito al punto cruciale. Come molti sanno, di recente la marina americana ha finalmente ammesso in forma ufficiale che i loro cieli vengono spesso invasi da oggetti volanti non identificati. Si tratta in realtà della prima ammissione ufficiale dell'era moderna perché già negli anni 50, come avete visto, il generale Sanford aveva ammesso la presenza di oggetti volanti non identificati nei cieli americani. Ma poi ci fu la chiusura del progetto Blue Book e da quel giorno i militari non avevano mai più ammesso niente ufficialmente. Adesso invece lo hanno fatto di nuovo e con grande risonanza mediatica. A questo punto i debunker, sempre quelli che non vedono l'ora di scoprire gli extraterrestri, non dimentichiamolo, ci sono subito affrettati a dire che no, non è una vera ammissione. Sì, vabbè, ma non hanno detto niente in realtà perché tecnicamente non hanno mai parlato di alieni. Insomma, invece di guardare al senso delle cose, si sono aggrappati alle parole pur di cercare di minimizzare in qualche modo questa notizia. E la dichiarazione della Marina forse arriva proprio per chiarire un momento come stanno le cose. E infatti il portavoce della Marina, Joe Gradisher, dichiara che questi filmati che circolano provengono effettivamente dall'archivio della Marina e sono stati concessi dopo che sono stati richiesti. Ma non parla di UFO, non parla di dischi volanti, non parla di extraterrestri, parla semplicemente di fenomeni aerei non identificati. Ebbè, hai detto niente Polidoro, perché è vero che non sai con certezza cosa sono, ma sai anche benissimo che cosa non sono. Il ragionamento, lo abbiamo già fatto prima, sai benissimo che non sono americani, perché altrimenti non lo avrebbero denunciato apertamente. Se il Pentagono stesse sperimentando dei nuovi veicoli segreti con queste prestazioni eccezionali se ne starebbe bello zitto e manterebbe il segreto, loro saprebbero cosa sono, ma a noi non direbbero niente. Mentre qui loro ammettono apertamente di non sapere cosa siano. Inoltre c'è un problema di sicurezza che esclude definitivamente l'ipotesi che siano oggetti volanti americani, perché il Pentagono non metterebbe mai a rischio i suoi stessi piloti facendoli volare nelle stesse zone in cui volano questi aerei sperimentali. Pensate, questo ragionamento è talmente ovvio che lo fanno persino Polidoro e Fartade. Guardate. Ma il problema per la Marina qual è? Che queste incursioni, le chiamano, sui campi di addestramento militari rappresentano un grosso problema e un pericolo anche per i piloti. Lui era un pilota di F-18 Hornet e ha parlato di diversi avvistamenti di come inizialmente pensava che fossero dei militari stessi, ma poi quando c'è stato questo incidente sfiorato hanno iniziato a dire che era impossibile che fossero davvero militari perché non le avrebbero mai messi i loro stessi piloti in una situazione di pericolo. Cioè se fossero oggetti dei militari stessi saprebbero della loro presenza, posizione, eccetera, e quindi manderebbero i piloti in una zona di pericolo. Quindi che non si tratti di veicoli sperimentali siamo tutti d'accordo. A questo punto cosa ci rimane? Sentiamo le varie ipotesi che ci propongono i debunker. Polidoro nel suo video ci dà una lunghissima spiegazione su come le telecamere infrarossi dei caccia moderni non siano poi così affidabili, il calore che viene registrato ingrandisce i margini degli oggetti, non c'è una grande definizione dell'immagine, la distanza non è calcolabile con precisione. Insomma, sentite il suo ragionamento e la conclusione a cui arriva lui. Questo che cosa significa? Che la forma degli oggetti che noi vediamo in questi video è solo apparente. Cioè questi video non ci possono dire niente né sulla colorazione né sulla forma degli oggetti ripresi. Lo strumento poi non ci dice niente sulla distanza a cui si trovano gli oggetti. Potrebbero benissimo essere degli aerei di linea molto lontani. E i loro motori sono visti come una sola macchia confusa proprio perché lontana. Potrebbero benissimo essere degli aerei di linea molto lontani. Mamma mia ragazzi, adesso chi glielo dice ai militari? Che potrebbero essersi confusi con dei normalissimi aerei di linea? Io sinceramente non ho il coraggio di dirglielo. Facciamo così Polidoro. Io ti do il numero del Pentagono e gli telefoni tu. Ecco, il numero è questo. Chiamali e digli ragazzi non preoccupatevi perché quelli che voi non riuscite a spiegare in nessun modo potrebbero benissimo essere degli aerei di linea molto lontani. Quindi potevate evitare di fare tutti questi proclami alla stampa dicendo che sono oggetti che non siete in grado di identificare. La prossima volta chiamate me e ve lo spiego io che cosa sono, no? Ecco, chiama il Pentagono e digli così Polidoro. Vedrai che tireranno un sospiro di sollievo e ti ringrazieranno per la spiegazione geniale che gli hai dato. Perché è ovvio che non sono aerei di linea. Prima di tutto gli aerei di linea non volano a velocità ipersoniche come invece fanno questi oggetti. E poi i controllori di volo con i radar sanno sempre esattamente dove si trova ciascuno degli aerei di linea che è in volo in quel momento. È impossibile confondersi. Fartadi invece, per spiegare in qualche modo questi oggetti non identificati ci rifila il solito minestrone di tutto e di nulla. Droni, aerei sperimentali, aerei superleggeri, tacchi, dadi e datteri. Come dicevo all'inizio vedere qualcosa di volante sulla Terra nel 2019 non è difficile. È pieno di cose che non potresti spiegarti che possono essere droni, che possono essere aerei sperimentali, aerei superleggeri, eccetera. Non sempre sono subito identificabili. A parte che ci aveva appena spiegato che non possono essere aerei sperimentali per motivi di sicurezza, ma Fartadi insiste soprattutto sull'ipotesi dei droni con caratteristiche molto particolari. Sentite. Specialmente dagli anni 2000 avrete notato anche voi la presenza sempre maggiore di droni, non solo amatoriali, ma anche professionali. Droni che possono volare molto velocemente, molto in alto. E non sempre sono identificabili, chiaramente, quando sei in un aereo e lo guardi da un visore o lo vedi appena come una macchiolina scura. E il problema è che questa macchiolina scura a volte viaggia a velocità ipersoniche che non sono certo raggiungibili da droni di alcun tipo. Tanto per chiarirci, per velocità ipersonica si intende almeno 5 volte la velocità del suono, cioè da Mach 5 in su. La velocità supersonica va da 1 a 5 volte la velocità del suono, cioè da circa 1500 a poco più di 6000 km all'ora. E già queste sono velocità pazzesche da raggiungere. Ipersonico significa da 5 a 10 volte la velocità del suono, quindi da un minimo di 6000 km all'ora fino a oltre 12.000 km all'ora. Questo vuol dire viaggiare a una velocità di circa 2-3000 metri al secondo. Ve lo vedete voi un drone che vola a 2 km al secondo? Ci avete presente cosa vuol dire dal punto di vista aerodinamico muoversi nella nostra atmosfera con le velocità. Sentiamo cosa ci dice Luis Elizondo a proposito della velocità di questi oggetti non identificati. Luis Elizondo non è un personaggio qualunque. Lui era proprio il direttore del programma avanzato di identificazione di minacce aerospaziali del Pentagono. Dico era perché ha dato le dimissioni dopo essersi stufato per i continui insabbiamenti da parte del Pentagono sulla faccenda UFO. 3-dimensional space the faster it goes the more forces are placed upon and yet here's an object that's doing well in advance of those speeds and I don't mean just 3 or 4.000 miles an hour potentially 8, 9, 10.000 miles an hour. Ora, chiariamo bene una cosa. Quando i militari dicono che un oggetto viaggia a una certa velocità non è che lo dicono perché qualcuno ha guardato fuori dal finestrino e ha detto oh, vedi, quella roba sta andando proprio forte saranno almeno 5.000 km a qualche croce. Non è che funziona così. I militari hanno i radar sia sugli aerei che sulle navi che a terra e sono perfettamente in grado di fare triangolazioni di ogni tipo con l'assoluta precisione. Siamo nel terzo millennio non siamo ai tempi di Re Artù dove si usavano le giornate a cavallo per misurare la distanza. La tecnologia di oggi specialmente quella militare ci permette di stabilire con grande precisione a che velocità si muove un oggetto che si sposta nel cielo nelle tre dimensioni. Quindi se i militari parlano di velocità di 5, 10 o 15.000 km all'ora quelle sono non si discute. Ma allora chiederete voi come spiegano i debunker queste velocità impressionanti? Polidoro non ci prova nemmeno. Lui è troppo furbo. parla parla ma i veri problemi non li affronta mai. Fartadi invece ci ha provato. Sentite come ci spiega il caso della Nimitz che è uno dei più famosi proprio perché nel video si vede l'oggetto volante schizzare via di colpo a una velocità impressionante. Come fa questo oggetto a muoversi così veloce se davvero si tratta di un oggetto terrestre? Perché se calcolate la velocità dovrebbe essere più veloce del suono nulla si muove a quella velocità che conosciamo. Lui stesso David Fravor aveva detto sia in diretta perché a un certo punto fa un commento di wow come si muove veloce sia successivamente aveva detto che quell'oggetto si muove troppo veloce. Però il problema è che non sembra che si sia mosso l'oggetto. James conferma che probabilmente è dovuto al modo in cui si muoveva l'aereo. Una manovra chiamata in inglese banking che porta l'aereo da un lato e fondamentalmente porta all'oggetto dal limite del campo di vista della camera all'infrarossi e quando esce dal campo di vista il modo in cui si vede nella camera lo fa sembrare praticamente schizzare verso l'esterno. È un'illusione creata dal movimento dell'aereo non dell'oggetto stesso. Fartade parla come se la telecamera del caccia fosse un oggetto fisso avvitato sotto la fusoliera in qualche modo con due bei bulloni da 17. Allora in quel caso se l'aereo fa uno scarto improvviso anche l'inquadratura fa uno scarto improvviso. Ma le telecamere di questi aerei non sono fisse hanno una testa rotante che è perfettamente in grado di tenere un oggetto al centro dell'inquadratura anche se l'aereo cambia direzione. E pensate che bello non è neanche bisogno di andare a cercare una dimostrazione di questo perché è una cosa che ci conferma lo stesso Polidoro. Poi sappiamo che il colore scuro indica in realtà un calore molto intenso ma soprattutto come dice sempre Paolo sappiamo che il sensore è montato su una testa che ruota indipendentemente dall'aereo. Hai capito Fartade? Il sensore è montato su una testa che ruota indipendentemente dall'aereo. Quindi anche se l'aereo va in banking la telecamera segue l'oggetto non lo perde. Qui invece si vede chiaramente che è l'oggetto che schizza via di colpo e sparisce dall'inquadratura. Ma poi ragazzi siamo alle solite se i militari ci dicono che questa roba viaggia a 10.000 km all'ora non è che arrivi tu e mi spieghi che no è solo la telecamera che si è spostata di colpo. Non facciamo ridere per favore. Altrimenti diamo anche a Fartade il numero del Pentagono e lui gli spiega anche questo problema già che ci siamo. Poi andiamo tutti a nanna a dormire tranquilli e arriva la fatta turchina che ci dà il bacio della buonanotte. Ma poi c'è un altro problema altrettanto importante che sono le centinaia e centinaia di avvistamenti di UFO nel cielo da parte dei piloti professionisti sia civili che militari. Abbiamo ormai delle intere collezioni ci sono intere stagioni non puntate ma intere stagioni della serie di History Channel sugli UFO con testimonianze di piloti civili e militari che hanno osservato oggetti nel cielo non spiegabili con tecnologie terrestri. Quando un pilota di un aereo dice ho visto un oggetto enorme a forma di sigaro che galleggiava immobile nel cielo sopra di noi tu cosa gli dici vai a farti visitare perché hai avuto delle allucinazioni? Ebbene sì. Secondo Fartade sì. Secondo lui tutti assolutamente tutti gli avvistamenti fatti dai piloti civili e militari sono frutto di una allucinazione di tipo culturale. Ve lo faccio sentire direttamente dalla sua bocca perché altrimenti rischiate di non credermi. Le persone non in mala fede ma si ingannano quindi ci sono piloti ci sono anche astronauti che hanno parlato di UFO e di alieni e è facile pensare che beh l'ha detto qualcuno che fa il pilota che è un alieno quindi sarà palesemente un alieno perché lui se ne intende però di nuovo non è la prima volta che qualcuno è rimasto suggestionato e sappiamo che può succedere gli esseri umani sono così quindi è facile chiedersi allora sono tutti suggestionati che cos'è una suggestione di collettiva sì sì si chiama cultura è così che funziona si chiama cultura è così che funziona cioè è dagli anni 40 del secolo scorso che i piloti raccontano di strani avvistamenti nel cielo in quel periodo non c'era ancora la cultura degli UFO anzi è nata proprio dopo questa prima serie di avvistamenti però evidentemente secondo Fartade anche quei piloti erano già vittime di una cultura che non c'era ancora ma che loro stessi avrebbero contribuito a creare un caso meraviglioso di Propterock al contrario dove l'effetto arriva ancora prima della causa ma a parte questo come dicevamo abbiamo ormai una tale quantità di testimonianze di piloti civili e militari che ci vuole veramente un coraggio da incoscienti per dire che siano tutti vittime di allucinazioni di tipo culturale soltanto nel rapporto cometa che abbiamo visto prima sono stati analizzati 500 casi di avvistamenti la maggioranza da parte di piloti civili e militari tutta gente quindi di altissima credibilità io stesso nel mio film ho messo diverse registrazioni audio di piloti civili che si trovano improvvisamente di fronte a oggetti sconosciuti e chiedono chiarimenti ai controllori di volo 28 febbraio 1996 il volo Air Shuttle 5959 da Detroit a Cleveland osserva uno strano oggetto di luce pulsante che sembra sospeso fra le nuvole sotto di loro Durante lo scambio interviene un secondo aereo Mesaba 3179 che ha sentito la conversazione di un secondo aereo 18 novembre 1995. Il volo Lufthansa 405 da New York a Francoforte viene incrociato in cielo da un oggetto non identificato di forma cilindrica, con una potente luce davanti e una densa scia di vapore verde alle spalle. Lo stesso oggetto viene visto anche dal pilota del volo British Airways 226 che segue il volo Lufthansa sulla stessa rotta. Un caso simile era avvenuto al volo Swiss Air 127 nell'agosto dello stesso anno. 26 maggio 1995. L'equipaggio del volo America West 564 in viaggio dalla Florida al Nevada vede un enorme oggetto a forma di sigaro con una serie di luci lampeggianti che ruotano in senso anti-orario galleggiare immobile nel cielo. del Texas. Non vedendo nulla sul proprio radar, i controllori civili contattano i militari del NORAD, il sistema di difesa aerea americana che conferma di non avere operazioni in corso in quella zona. E questi, come dicevo, sono solo alcuni. Ce ne sono letteralmente a centinaia ormai. Poi, oltre ai civili, ci sono anche le testimonanze dei militari, alcune delle quali vi fanno letteralmente accapponare la pelle. Sentite questa, che è presa sempre dal mio film. Si tratta di una conferenza tenutesi al National Press Club di Washington una ventina di anni fa circa. Lì una dozzina di piloti militari da ogni parte del mondo sono convenuti per raccontare alla stampa le loro incredibili esperienze con gli UFO. Uno di questi piloti era il comandante Huertas dell'aviazione peruviana. Naturalmente le immagini del caccia che ha utilizzato nel montaggio sono di repertorio, non sono quelle originali. Ascoltate bene quello che racconta Huertas e provate a immaginare, mentre lui racconta, che tutto quello che descrive sia solo il frutto di una allucinazione culturale. A conferma della scarsa probabilità che tutti gli UFO mai avvistati siano di origine terrestre, vi sono molte testimonianze degli stessi piloti militari, come ad esempio quella del capitano Huertas dell'aviazione peruviana. Nel 1980, racconta Huertas, uno strano oggetto volante fu visto galleggiare da oltre 1800 militari nel cielo sopra la base peruviana di Arecipo. Mi comandante di unità mi dio la ordine di despegar a Mijet Sukhoi 22 per disparare al obieto sfèrico, perché stava in spazio prohibito, senza permiso e temiamo espionaggio. Io mi acerqué al obieto e le disparé 64 obusi di 30 mm. Alguni obusi feroono contro il terreno e altri le pegarono di lleno al obieto, però senza effetto. L'obusi non rebotaron, probabilmente feroono absorbito. La pared di fogo in forma di cono che io mandé, normalmente abbia destruito qualche obieto in suo cammino. Il obieto, allora, si è iniziato a subire e a alejarci della base. E quando io stava a unos 11.000 metri, di repente si detuvo, forzandome a salire del lato perché già mi trova a solo 500 metri di lui. Quindi, ho fatto un ascenso per atacarlo desde arriba, però proprio quando io lo avevo centrato in la mira e stava listo a disparare, il obieto è un ascenso vertical evadendo mi ataque. Due volte più ho avuto il obieto in la mira, quando è stato stato estacionario, e cada vez si è un ascenso al ultimo momento antes di mio disparo. Quindi, decidì fare un ascenso a toda velocità per ponermi molto per encima del obieto, però è stato iniziato a subire anche e quasi in parallelo con il mio avione. Quando soppassé i 19.000 metri, il obieto si detuvo. Fui entonces che mi acerqué a 100 metri del obieto. Era un obiettivo. Tenia unos 10 metri diàmetro, estaba come esmaltato con una cúpula de color crema sobre una base metàlica ancha e circular. No tenia motores, ni escapes, ni ventanas, ni alas o antenas. Carecía di tutti i implementi tipi di un avione e senza nessun sistema visibile di propulsione. Fui in ese momento che mi dì capta che questo non era un obiettivo per espiar, sino che era un ovni, algo completamente desconocido. Ya quasi non tenia combustibile, osea che non potrei ni atacar, ni maniobrar mi avione, tampocco escaparmi a alta velocità, e senti temor, quizà questo era il mio fin. Tuve che planeare parte di mio descenso, per falta di combustibile, haciendo zig-zag e sempre viendo por mis espejos retrovisori con la esperanza di che l'obietto non me persiguiera. No pasó nada. Después de que aterrissé, l'obietto permaneció estacionario en el cielo por dos horas más a la vista de todos en la base. Todavía me da escalofrío cuando me acuerdo. Quindi, l'obietto saliva e scendeva a piacimento, si fermava improvvisamente nel cielo, poi ripartiva a velocità pazzesca. Huertas le ha tirato addosso tutto quello che aveva, ma l'obietto era invulnerabile e si inghiottiva obici da 30 mm come se fossero caramelle. Non aveva ali né motori visibili e dopo che Huertas si è atterrato è rimasto ancora per un paio d'ore a galleggiare sopra il cielo della base alla vista di tutti i militari. Ma naturalmente Huertas, insieme ai 1800 militari della base, è stato vittima di una allucinazione culturale. Non c'era niente di preoccupante nel cielo. E poi viene la fatta turchina, appunto. Capite adesso perché ho messo fartade fra i debunker della peggior specie. Perché all'inizio qualcuno si era stupito che lo avesse incluso nel gruppo. Mi dicevano, ma no, ma lui è soltanto un appassionato di astronomia, non c'entra niente con i debunker. Ecco, adesso l'avete visto il vostro appassionato di astronomia? Che bei cetriolini che cerca di rifilarvi travestito da divulgatore scientifico. Tra l'altro io non ho il minimo interesse a dimostrare a tutti i costi che gli UFO non sono di origine terrestre. Sinceramente la cosa non mi ha mai interessato più di tanto. Io ho fatto un film, ho messo lì le testimonianze che ho trovato, le ho organizzate al meglio delle mie capacità, dopodiché ognuno può farsi l'opinione che vuole. Ma trovo veramente fastidioso che ci sia della gente che viene a raccontarci che il progetto Blue Book non ha mai confermato nessun disco volante. Che a Roswell l'hanno trovato solo dalla carta stagnola. Che gli oggetti che la marina non riesce a identificare possono essere di normalissime ere di linea. Che le enormi velocità di questi oggetti siano spiegabili con un semplice movimento improvviso dalla telecamera. Che tutti gli avvistamenti dei piloti degli ultimi 70 anni sono frutto di una allucinazione culturale. Cioè è fastidioso sentire queste cose perché sono chiaramente false. E' bello che questa gente ci piglia pure per il culo perché mentre ci raccontano tutte queste barzellette vorrebbero anche convincerci che loro non vedrebbero l'ora di scoprire che esistono gli extraterrestri. Evidentemente sono convinti di parlare a una massa di cretini perché io non vedo altra spiegazione sinceramente. Bene, per chiudere vi lascio con le parole di Fife Symington sempre alla conferenza del National Press Club di Washington. Fife Symington era governatore dell'Arizona nel 1997 quando ci fu il clamoroso caso delle luci di Phoenix. In quell'occasione più di 10.000 persone videro una grossa formazione di luci misteriose sostare a lungo sopra la città oscurando completamente le stelle del cielo. Lo stesso Symington vide questo enorme oggetto che restò immobile nel cielo per lunghi minuti e ne rimase ovviamente molto impressionato. Arrivederci e salutatemi tanto Fartade e Polidoro.